La sperimentazione dei vaccini Pfizer e Moderna è già a buon punto. Entro l'autunno potrebbe arrivare la richiesta di autorizzazione per somministrarlo anche ai più piccoli. Una buona notizia che incoraggia il ritorno sui banchi in sicurezza anche per i minori di 12 anni. Vittime del Covid come gli adulti con 28 decessi da quando è iniziata la pandemia. 14 erano addirittura bambini con meno di 9 anni, gli altri comunque minori di 18. È necessaria la vaccinazione Covid in età pediatrica perché così facendo riduciamo anche la circolazione del virus in quelle fasce di età che per età e per comorbidità non possono vaccinarsi e che risultano essere più fragili e più a rischio di ospedalizzazione. La società pediatrica italiana si dice favorevole alla vaccinazione come anche quella americana. Al loro fianco si è schierato anche il comitato tecnico scientifico. Il coordinatore, Franco Locatelli, non ha dubbi. Vaccinare più piccoli significa limitare la circolazione del virus e proteggere tutti, nonni e genitori compresi.